Matera e Maceratese si sono divisi i due punti ma forse chi ha più da recriminare per il mancato successo pieno sono i materani che alla trentesimo del primo tempo hanno banalmente sciupato con Trevisan un calcio di rigore. La gara soprattutto nella seconda parte è stata sostanzialmente dominata dai lucani che però al di là di un predominio territoriale quasi costante raramente sono riusciti a dare concretezza alla manovra denunciando limiti di gioco ormai consueti. A dimostrazione di questa carenza in fase conclusiva dei materani c'è un dato alquanto significativo il portiere Gabban solo in un'occasione precisamente al novantesimo è stato impegnato per alto su calcio piazzato battuto da De Canio. Comunque lo stesso portiere è stato il protagonista della partita opponendosi validamente alla tiro dagli 11 metri. La massima punizione era stata concessa dal direttore di gara per un fallo commesso dal medesimo Gabban su Trevisan che lanciato in contropiede da Doriano lo aveva scavalcato appena entrato in area di rigore. Il tiro dell'attaccante Lucano per la verità debole e poco angolato è stato bloccato in tuffo dal numero uno marchigiano. La maceratese era venuta a Matera con la femma intenzione di giocare una gara di contenimento senza rinunciare comunque alla possibilità di far sua all'intera posta. Infatti con uno schieramento abbastanza prudente ha cercato innanzitutto di frenare a centocampo le manovre dei padrone di casa e in secondo luogo di sorprendere con veloci capovolgimenti di fronte la retroguardia materana. La tattica impostata da mister Balugani ha prodotto i frutti sperati anche se Mattarollo non ha dovuto effettuare interventi di una certa consistenza. Tutto sommato visto l'andamento della partita il risultato ad occhiali oltre ad essere sostanzialmente giusto consente alle due squadre di muoversi in classifica verso posizioni più confacenti ai loro potenziali tecnici. Infatti alla termine dell'incontro i due allenatori si sono dimostrati soddisfatti del risultato ed hanno reciprocamente apprezzato la validità delle due formazioni. Al Matera è sfuggita comunque la possibilità di conquistare per la terza volta consecutiva i due punti da quando la guida tecnica della squadra è stata affidata a Elvio Salvori. Queste le note di cronaca. Alla settimo minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla giunge a Mazzaferro, uno dei migliori in campo della formazione marchigiana, che dal limite dell'aria fa partire un tiro respinto in tuffo da Mattarollo. Alla diciannovesimo i materani reclamano il rigore per un intervento di Mazzaferro, che prima di respingere in angolo travolge in carbona in piena aria. Alla trentesimo il rigore è già descritto. A pochi secondi dal termine Lanza non riesce a controllare a pochi passi dal portiere. Un facile pallone è capitato lì sui piedi per una incertezza difensiva. Nella ripresa all'ottavo termina di poco a lato un colpo di testa di Rebesco servito da Bertoia. Sempre Rebesco al ventitraesimo non riesce a deviare, pur trovandosi in buona posizione al centro dell'aria, un cross dalla sinistra effettuato da Piochi. La maceratese si fa viva in avanti al venticinquesimo con Biasi, che da circa trenta metri fa partire un violento tiro che termina alto sulla traversa. Si rende pericolosa invece alla trentanovesimo con Pagliari, che raccoglie di testa un calcio di punizione battuto da Frinzi, ma la palla va di poco a lato con Mattarollo fuori causa. L'incontro si chiude con un'ultima occasione per il Matera e De Canio che impegna seriamente Gaban su calcio di punizione proprio allo scadere.